Per chi ama la danza, un momento di grande spettacolo, il 17 novembre al Teatro Agusteo di Salerno. Dancing Festival, concorso nazionale di danza, i cui proventi saranno devoluti in beneficenza. Al concorso possono partecipare scuole di danza, gruppi e danzatori non professionisti. In giuria i maestri Ugo Ranieri, Mauro Astolfi, Fabio Crestale, André Della Roche, Damiano Bisozi, Little Phil, Rocco Greco, Presidente di giuria e madrina del festival, l'Etoile Internazionale Elisabetta Terrabust. Dancing Festival è un concorso dedicato ai diversi linguaggi della danza, classica, contemporanea, moderna, hip hop. Per iscrizioni e informazioni chiama il 346 71 82 521 oppure visita il sito www.dancingfestival.it